Professore, ci parla un po' dell'osservatorio, di che cos'è e che cosa state studiando? L'osservatorio sui consumi delle famiglie nasce diversi anni fa nell'Università di Verona, attualmente nel Dipartimento di Scienze Umane e si propone lo scopo di fare delle indagini almeno annuali sui comportamenti di consumo delle famiglie italiane. Attualmente stiamo elaborando i dati dell'indagine 2016, di tanto in tanto facciamo anche indagini più focalizzate come per esempio quella su Verona che abbiamo fatto tre anni fa e che anzi probabilmente rifaremo l'anno prossimo per avere dei dati di confronto tra i due anni. Poi facciamo tante altre cose, interventi sulla stampa, facciamo ricerche approfondite su dei temi specifici, per esempio ci siamo occupati moltissimo del consumo di cibo, di come le famiglie stanno cambiando il rapporto col cibo, l'acquisto, il rapporto tra cibo cotto in casa e cibo consumato fuori casa, quello lo stiamo approfondendo in maniera veramente molto forte, anche con dei colloqui mirati a famiglie campione naturalmente.